Ah, addirittura! Buonasera, signora. Buonasera. Che succede? Perché si agita così tanto? Non riesce a parlare? No, parlo, parlo, parlo. Mi hanno avvelenato! Con che cosa? Con un gamberetto dentro l'olf. Dentro al? A sushi! Sì! Fiosa allergica! Ma io denuncio a tutti questi cinesi! No, i sushi saranno giapponesi. E' uguale, io so gonfia! C'ho la bocca gonfia! La lingua gonfia! La gola gonfia! E' male gonfia! Sono tutta gonfia! Facciamo così! Io adesso le do qualcosa! Dammi ma che cosa! Le do qualcosa! Qualcosa? Qualcosa! Sì! Ma che cosa? Ma come che cosa? Chi lo sa? Io adesso sinceramente non lo so! Ma come non lo sa? Vogliamo dare un'occhiata a internet? Ma com'è internet? Meglio, va! Ma scusa, ma che devi fare? Ma mica Black Friday che sta a fare shopping! Mi dispiace perché la connessione è lenta! Ma com'è lenta? Aspettiamo! Eccolo la! Allora digitiamo! Che digitiamo? Che digitiamo? Gonfiore facciale! Facciale! Faccione! Facciale! Eh ma che ne so io! Eh signora però come non lo sa! Eh non lo so io! Ma il paese ha fatto passi avanti! Tutti sanno tutto! Eh c'è internet! Ma che me frega c'è internet! Eccolo allora vediamo un po'! Qua si tratta di decidere tra cortisone e antistaminico! Antistaminico! Io però che ne so! Che ne so! Non lo so! Allora sa che faccio! Per me sbagliare! Io adesso le preparo! Due fiare! Due fiare! Cortisone! Antistaminico! Ah attenzione! Antistaminico! Cortisone! Cortisone! Cortisone antistaminico! Antistaminico! Cortisone! Dove sta? Sta qui o qua! 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 Ma è quella giusta? È quella giusta? Non so! Come non so! Nel dubbio decida lei! Decida lei? Tanto mi dicono che se ne intende e che sua zia è portiere! 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 Casomai la puntura gliela fanno! Ma la fa lei! Ma come la fa lei? Purtroppo adesso la saluto perché è un urgente! No 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 no! Ma come cortisone? Come antistaminico! Dottoressa! Dottoressa io! Ma come cortisone antistaminico? Ma io che adesso? Ma chiamami io! Dottoressa! Dottoressa! Aspetta! Ma sta cosa? Aiuto! Dottoressa! Ma è brutta tutto! Dottore! Dottoressa! 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 Che c'è? Un miracolo! Sì? Ma è bravo l'apreco? Sì! Il cortisone antistaminico! Abbiamo pazienza! Sì! Non lo so! Ma lo dico a lei! E che lei un po' ha capito solo!